Guardate, oggi Piazza San Pietro è diventata una milunga, a cielo aperto. Per questi giorni di 78 anni del Papa si sono mobilitati anche 3.000 tangheros, 3.000 ballini, tanto che sono giunti nella capitale da tutto il mondo, per dire auguri al Santo Padre. I loro fazzoletti bianchi hanno salutato l'arrivo del Papa in Piazza San Pietro e con questi stessi fulati altri, ancora adesso stanno ballando. Gli altoparlanti diffondono una sua dente musica argentina che probabilmente arriverà anche all'orecchio del Santo Padre. Il Papa oggi ha parlato di famiglia nella catechesi, della normalità della famiglia di Nazareth. Ha parlato di Giuseppe Falegname che insegnava i suoi figli a lavorare, di Maria che stirava le camicie e ha detto da questa famiglia possiamo imparare a portare e a vivere, a declinare la grande missione della famiglia nel mondo, di portare Gesù appunto e le nostre famiglie che da lì annunciano il mondo. Ma questo si può fare anche a passi di tango, lo stanno facendo questi 3.000 tangheros oggi. Non era mai successo in Piazza San Pietro.